Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti a casa nostra, benvenuti anche a casa vostra. E niente, sto con un pochino di fogli in mano, mi avevano detto dalla leggia di seguire il brogliaccio, di dire delle cose così, invece io come al solito andrò a ruota libera, vi dirò che i punti di vista, che avevamo annunciato la chiusura per datata età e per il tempo che è stato utilizzato. Invece ci sono arrivate un pochino di mail che stanno qua, tantissime telefonate che ci hanno chiesto di andare avanti perché qualcuno diceva che siete l'unica televisione che dice la verità, l'unica trasmissione che racconta le cose così come stanno. Noi lo abbiamo sempre fatto, vogliamo continuare a farlo e non abbiamo avuto il coraggio di dire no a tutte queste persone che ci hanno veramente chiesto di proseguire. Noi dal 27 ottobre su questa stessa emittente, alla nostra emittente di sempre, ritorneremo in onda. Vi aspettiamo numerosi, spero che continuino, perlomeno questi qua ci saranno di sicuro, spero che ci sarete anche tutti quanti voi, in modo che possiamo farvi sentire, vedere e toccare con mano. Qualche volta anche invitare qualcuno di voi in trasmissione perché ci saranno delle novità rispetto alle passate edizioni e ci sarà una rubrica all'interno di una trasmissione che si chiamerà quella volta. Quindi qualcuno di voi se ha qualcosa di quella volta, capitò quella volta, ci scrive, l'email la conoscete tutti quanti, poi nel corso delle trasmissioni noi la lanceremo nei sottotitoli, in modo che potete scriverci e ci racconterete la vostra quella volta, dopo dove la migliore sarà, la più bella, la più interessante sarà scelta e vedete in trasmissione a raccontare a tutti quanti noi e anche voi quella volta. Io intanto vi ringrazio e diciamo che vi aspetto con ansia, poi andrò in sala trucco, parrucco no, ma solo in sala trucco, a prepararmi un pochino per tutti quanti voi. Vi auguro una buona serata, a presto 27 ottobre, torna a Punti di Vista. Grazie.